Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. E allora, come di consueto, subito in apertura i titoli degli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. Elezioni politiche, il commento dei consiglieri regionali. Sanità, respinta la mozione sulla riorganizzazione del servizio di guardia medica. Proteste in Iran, appello alla solidarietà della regione toscana. Le elezioni politiche dello scorso 25 settembre hanno decretato la vittoria della coalizione di centrodestra. Secondo i dati definitivi del Ministero dell'Interno, in Toscana il centrodestra si è affermato con il 38,5%. Nello specifico, Fratelli d'Italia ha ottenuto il 25,9%, la Lega il 6,42%, Forza Italia il 5,76% e noi moderati lo 0,44%. Il centro-sinistra si è attestato sul 33,85%, il Partito Democratico con il 25,83%, Alleanza Verdi e Sinistra con il 4,73%, più Europa con il 2,9% ed impegno civico con lo 0,39%. Il Movimento 5 Stelle ha fatto registrare l'11,3%, il Terzo Polo il 9,32%. Abbiamo raccolto le dichiarazioni dei consiglieri regionali anche per capire come e se potranno cambiare gli equilibri all'interno dell'Aula. Il primo commento è del Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Io penso che noi dobbiamo avere il coraggio di dire come sono andate le cose, anche le cose positive. Penso alla mia città, a Pisa, noi abbiamo fatto il più 4% rispetto alle politiche 2008, più 10% rispetto al Sindaco Conti, siamo a nove mesi dalle elezioni e sono convinto che ci sia la possibilità di giocarcela, sia lì sia a Siena. Quindi esiste un tema e un problema serio a livello nazionale, ma allo stesso tempo dobbiamo leggere anche i dati positivi. Io penso che quella lettura è stata una lettura di questo tipo, che tiene conto di luci ed ombre. Poi il problema esiste, penso di aver detto quello del mio punto di vista rispetto a tutto questo. È chiaro, bisogna approfondire, andare nel dettaglio, ma anche essere rapidi, perché il rischio è che se stiamo fermi e immobilizzati rischiamo di avere erosione ancora, sia dal Terzo Polo sia dal Movimento 5 Stelle. Ritroviamo la nostra identità e poi parliamo con tutti. L'agenda Gianni, se esiste, immagino sia fatta da una pagina. La pagina in cui il governatore prende atto che da oggi, se vorrà continuare a governare questa regione, lo farà non avendo più la maggioranza dei consensi della regione. Perché ieri ho sentito il governatore arrampicarsi addirittura in uno strano conteggio matematico secondo il quale avrebbe ancora la maggioranza, perché somma i consensi del PD quelli della lista di Calenda e Renzi. Forse è dimenticato che la lista di Calenda e Renzi ha fatto la campagna elettorale praticamente quasi esclusivamente contro il Partito Democratico, quindi dubito che oggi questi consensi si possano sommare. Oggi Fratelli d'Italia è il primo partito al Senato in Toscana e quindi il Presidente Gianni ovviamente ne doveva prendere atto. Detto questo, auspico nell'interesse della regione di tutte le province toscane, che vi sia una collaborazione tra il governatore Gianni e il governo. Su questo non ho dubbi, perché il governatore da questo punto di vista non credo abbia preclusioni ideologiche a confrontarsi col governo. I risultati arriveranno in Toscana se la Toscana si confronterà ovviamente col governo. Sicuramente decidono gli elettori e il risultato non possiamo dire che sia stato dei migliori. Abbiamo ben chiaro che probabilmente i cittadini sono sfiduciati e avranno bisogno con questo governo di centrodestra di una Lega che riesca a fare la Lega, quindi con i suoi uomini, le persone preparate che noi abbiamo all'interno del partito, cercare di lavorare per andare a rispondere alle esigenze dei cittadini e riacquistare quella fiducia che in questo momento hanno perso. Per me il leader Matteo Salvini non è assolutamente in discussione. Noi paghiamo lo scotto di un governo fatto col centro-sinistra del Movimento 5 Stelle, un governo di emergenza. Probabilmente i cittadini non hanno capito le motivazioni che ci hanno portato ad entrare in quel governo, ma però siamo sicuri che andando ad allinearci a quelli che sono i nostri alleati storici, quindi con un'affinità anche di idee e di proposte, riusciremo a fare bene e questo servirà anche al partito per acquistare la fiducia degli elettori. Il risultato del Partito Democratico anche in Toscana, al di là di essersi difesi in questa situazione difficile che è risultato a livello nazionale, non è un risultato brillante. Ma per la Toscana vale lo stesso che ho detto per quanto riguarda il livello nazionale. Cioè prima i contenuti, prima la riprofilatura del Partito Democratico, prima una riflessione su un programma che noi abbiamo per quanto riguarda il governo della Regione che ha messo assieme una maggioranza che è quella che governa, quindi la riconfermo, eventuali aggiornamenti. Partiamo dai temi e partiamo dai contenuti, non da altro e poi si parla di chi dovrà guidare il partito. Certo, nelle dichiarazioni, vedo anche delle dichiarazioni in netta discontinuità. vorrei che si ripartisse anche un po' andando a rivedere quali sono le collocazioni delle varie persone, dei vari dirigenti all'interno del PD perché vorrei che di fronte alla nuova stagione ci sia anche una coerenza con le cose che andremo a proporre. Sì, in Toscana un dato straordinario, essere al 10% denota che questa è una regione che chiede riformismo, che chiede scelte, dove un'area liberal-democratica e popolare come la nostra sta trovando un grande riscontro. Contestualmente c'è il crollo del Partito Democratico e questo denota che vanno fatte delle scelte, bisogna attuare una politica di governo in grado di assumersi responsabilità, attuare i piani di programmazione, fare scelte infrastrutturali, stare accanto all'impresa e al lavoro che oggi parlano la stessa lingua e questo denota che abbiamo il diritto e il dovere di cambiare passo, per esempio per quanto riguarda la gestione della sanità che non sta dando le risposte dovute agli operatori e né ai cittadini. Nel contempo, a titolo personale, è soddisfazione per aver raccolto 22.000 voti, partivo da una dote cosiddetta di 10.700, siamo arrivati nel mio collegio a 22.000 voti, più del doppio soltanto nel corso di due anni. Io credo che sia stato un lavoro straordinario che denotano l'attaccamento al territorio, a quella Toscana del Sud, Siena-Grosseto, che comunque ha bisogno di risposte importanti, penso infrastrutturali come la Tirrenica, penso infrastrutturali come i collegamenti ferroviari e abbiamo bisogno di non lasciare una Toscana a doppia velocità. Quindi dobbiamo tenere insieme, nel contempo, una regione che si attacca alle regioni del nord rispetto allo sviluppo economico, rispetto alla ripresa e soprattutto una regione in grado di avere una sticella spostata sull'asse di un riformismo che noi possiamo garantire, essendo forza di governo e su questa sfida sfideremo anche i nostri alleati nel governo toscano. Questa è la prova che il Movimento 5 Stelle gode di ottima salute e la guida del Presidente Conte è stata fondamentale per riprendere le fila di un'azione che abbiamo intenzione di rinforzare sui territori, che è quella dell'ascolto, della condivisione dei temi più critici e della risoluzione dei problemi a livello nazionale. La compagine toscana vedrà Ettore Liccheri, Andrea Quartini e Riccardo Ricciardi a rappresentarci, persone di esperienza, di grande esperienza e di valore e partendo da queste basi e soprattutto da un programma che è molto attento a un'agenda sociale, ambientalista e progressista, siamo sicuri di poter fare anche dall'opposizione il meglio per la Toscana e per l'Italia. Il campo largo, larghissimo, eccessivamente largo, che vorrebbe mettere insieme dei programmi totalmente diversi come quelli che sono rappresentati da Italia Viva e Azione e il Movimento 5 Stelle, quindi un neoliberismo da una parte rispetto a un progressismo e a un'agenda sociale più chiara e netta come quella del Movimento 5 Stelle non possono stare insieme, questo anche nel rispetto di ciò che le forze politiche esprimono. Quindi se questo, l'idea di Gianni, è quella per cercare di recuperare abbastanza consensi perché teme un risultato devastante per le regionali del 2025, ecco, mi sento già di suggerire un consiglio non richiesto che l'operazione così posta è assolutamente sbagliata. È stata respinta la mozione relativa alla riorganizzazione del servizio di guardia medica. L'atto è stato presentato da Stefano Scaramelli di Italia Viva e recepiva un emendamento apportato dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti. È una mozione che difende il ruolo dei medici, che ne attribuisce un significato e un valore alle professioni mediche, sanitarie, infermieristiche, che vuole difendere il volontariato della regione toscana e che vuole tutelare il lavoro dei pronti soccorso della Toscana. È quindi un impianto, quello di riforma, che il Partito Democratico ha ipotizzato, che è uscito negli organi di stampa, in primis la Nazione, ad agosto e poi a settembre ripreso da organi di stampa, riteniamo che sia un errore. Io ho posto con questa mozione un voto del Consiglio regionale perché desse un indirizzo raggiunto per fermarsi, perché è una riforma che va bloccata, che io a suo tempo avevo già bloccato, ho avuto la forza e il coraggio di farlo quando ero Presidente della Commissione Sanità e quindi per cinque anni ho fatto in modo che questo non avvenisse. Adesso si ritorna e si tira fuori dai cassetti una vecchia impostazione che lede da una parte i territori rurali, che impedisce ai cittadini toscani di avere un sistema di emergenza e di urgenza adeguato alle proprie aspettative e che mortifica il volontariato, svilisce la professione dei medici e soprattutto rischia di intasare i pronti soccorso. Andare a togliere i medici di guarda nel territorio è un errore perché sono un presidio territoriale e il Covid ci ha detto quanto sia importante. Sostituire un medico con un call center vuol dire fondamentalmente svilire la professione sanitaria e medica. Per questo non l'abbiamo contrastata. Dispiace che il Partito Democratico da solo contro tutto il Consiglio regionale abbia voluto difendere una riforma che a mio avviso è indifendibile. Nel corso del suo intervento Enrico Sostegni ha ricordato come la Commissione Sanità di cui è Presidente abbia avviato un lavoro sulla riforma dell'emergenza urgenza e sul tema della continuità assistenziale. Il tema della riforma della continuità assistenziale della guardia medica è una cosa che si parla da anni cioè già dalla scorsa legislatura era pronta una riforma perché noi di notte ogni guardia medica risponde in media a due telefonate. Qui si tratta di strutturare intanto un obbligo europeo è corretto di strutturare un numero unico per la continuità che è il 116 117 quindi questo comunque va fatto. Secondariamente c'è da ristrutturazione tutto il tema delle case delle comunità in ogni zona ci sono almeno una casa della comunità AB che è aperta H24 quindi c'è una presenza che deve essere costruita e non ha senso mantenere una guardia medica e poi costruire una casa della comunità accanto quindi deve essere riassorbita dalla costruzione delle case delle comunità e le preoccupazioni per le aree periferiche l'assessore quando è venuto a presentarla in commissione ha detto chiaramente che nelle aree periferiche dove c'è una lontananza da qualsiasi presidio medio viene mantenuta la presenza fisica della guardia media quindi lanciare gli allarmi eccetera mi pare che sia assolutamente fuori contesto tra l'altro ancora non è stata messa in piedi perché c'è una fase di concertazione che la giunta sta facendo quindi non si può dire che è corretto sia perché i dati ci dicono bisogna riformarlo il tema della continuità assistenziale e tutti sono sempre stati d'accordo sia perché la procedura che sta seguendo la giunta è una procedura di grande concertazione e di grande ascolto prima della decisione all'interno del dibattito è intervenuto anche il consigliere di Fratelli d'Italia Diego Petrucci una mozione a firma Italia Viva in particolar modo del presidente Scaramelli con la quale veniva chiesto alla giunta regionale di retrocedere rispetto alla riforma della guardia medica una richiesta assolutamente sensata perché nel momento in cui i pronto soccorso scoppiano è evidente che se leviamo la guardia medica aumenta il carico sui pronto soccorsi perché non hanno i pazienti che stanno male la notte altro modo per essere curati che chiamano il 118 ebbene quella richiesta è stata votata da tutte le opposizioni da tutte le minoranze in maniera convinta dal 5 Stelle Lega Fratelli d'Italia e Forza Italia ma è stata bocciata dal Partito Democratico quindi la maggioranza non c'è più una mozione che non avviene su una cosa di lato su una cosa marginale ma su un elemento centrale come la sanità e come la riforma della guardia medica la maggioranza che sosteneva Gianni qualche mese fa non esiste più il Consiglio l'ha certificato così come l'hanno certificato le ultime elezioni politiche La consigliera Elisa Tozzi del gruppo Toscana Domani in una comunicazione avvenuta in apertura dei lavori del Consiglio regionale ha fatto appello alla regione affinché possa riservare la massima solidarietà alle donne iraniane che stanno protestando dopo la morte di Masha Amini di 22 anni uccisa perché non portava il velo in modo corretto La Toscana è una regione che si è sempre contraddistinta come terra attenta alla tutela dei diritti civili e anche delle donne La manifestazione di sabato a Firenze delle donne iraniane ci richiama davvero ad un senso di responsabilità e soprattutto a manifestare tutta la nostra avvicinanza e solidarietà ad una comunità che si è stretta intorno all'evento tragico di una giovane ragazza uccisa di fatto dal regime iraniano solo perché portava il velo a detta della polizia morale in modo scorretto Ecco, io credo che l'Occidente non debba voltarsi indietro rispetto a ciò che sta accadendo in un regime che sta portando avanti una repressione sanguinaria e credo che le istituzioni in questo senso debbano davvero dare per prime un segnale forte di solidarietà e avvicinanza Ed è tutto grazie per la cortesia e attenzione Cronache e commenti torna la prossima settimana Grazie per la visione